cross per Cerci, toccato da dietro calcio di rigore, calcio di rigore per il Verona fallo di Viviani su Cerci, può cambiare la partita va Cerci, Gomis va dalla parte giusta ma non basta e avanti il Verona al decimo del secondo tempo con il secondo gol in campionato di Alessio Cerci il numero 40 in Serie A team abbraccio con Fossati